Il Papa va a trovare le suore dell'Istituto Maria Santissima Bambina. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale Gemelli e dopo aver omaggiato la Madonna a Santa Maria Maggiore, Papa Francesco si è recato in visita privata dalle suore dell'Istituto Maria Santissima Bambina in via Paolo VI, riunite in questi giorni nel capitolo generale. Grazie a tutti. E' importante non lasciare i bambini, i giovani e gli anziani. Sono le due punte della vita, la spedizione di un bambino e un giovane e la saggezza di un anziano che viene su di noi. occupare tutti, anche che parlino fra loro, che si abbia questa comunicazione. Gli anziani sono salci. Gli anziani verranno visioni e i giovani avranno coraggio ad andare avanti. grazie. 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 Grazie.